Niente spettacoli in Piazza Duomo a Lucera. Per motivi di sicurezza l'amministrazione comunale ha dovuto fare cambio location per gli appuntamenti in programma per il mese di agosto. Così da Piazza Duomo gli eventi si svolgeranno in Piazza Matteotti vicino alla Villa Comunale. Avere più vie di fuga è il messaggio principale della Direttiva Nazionale sul tema della sicurezza alla quale hanno dovuto aderire tutte le prefetture d'Italia. Dopo il tragico evento avvenuto a Torino lo scorso 3 giugno in cui per un falso allarme e bombe al fuggifuggi che si è creato in Piazza San Carlo ha perso la vita una donna. Da quel giorno è cambiato il modo di vedere, vivere ed organizzare gli eventi e le normative messe in campo permettono di considerare aree sicure solo quei luoghi che possono avere più vie di accesso in caso di emergenza. A Lucera Piazza Matteotti pare la scelta più sicura in quanto presenta più strade di rapida percorribilità utili per la messa in sicurezza. Situazione non possibile per Piazza Duomo che così risulta essere un'area non sicura per gli spettacoli che richiamano un elevato numero di pubblico. Le strade troppo strette e con molti ostacoli hanno decretato il luogo storicamente teatro di tanti spettacoli, soprattutto estivi, lontano dagli standard di sicurezza. Mentre resta sicuro l'ex convento di San Pasquale in cui si concentreranno gli eventi di rassegna di film e documentari d'autore perché sono destinate ad un pubblico ridotto e quindi non rientrano nella normativa nazionale. Indubbio la Sagra delle Sagre del 9 settembre sulla quale l'amministrazione comunale sta valutando l'idea di concedere Piazza Duomo o anche essa deve essere trasferita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.